ben ritrovati a filo rossonero qui su canale youtube di radio rossonera sempre insieme a carlo pelle gatti ciao carlo un saluto a tutti un saluto allora carlo la prima domanda di oggi ovviamente ti arriva sul derby di milano la partita di sabato la grande vittoria del milan ti chiedono cosa ti ha ricordato se ti ha ricordato qualcosa il terzo gol ovvero quello di raffaelle auto ma l'ho ricordato qualcuno subito magari non proprio simile ma lui che si infila fra tre avversari mi ha ricordato due gol di cacca un gol di cacca di cacca certamente a manchester quando lui fa cozzare evra con l'altro giocatore due cozzano e lui prende e se ne va quindi ha in sé ed evra poi anche un altro gol quando ha ondeggiato così contro il fenerbaci quando segno un gol molto bello ondeggiando per san siro e quindi sono i due gol che mi ricordano questo gol molto bello perché e poi mi ricorda anche un gol di ronaldigno per la partenza dell'azione con questa specie di elastico che inganna i tre avversari quindi però abbiamo abbiamo parlato di cacca di ronaldigno abbiamo parlato dei massimi giocatori arrivati almeno negli ultimi anni quindi un bel ricordo un bel complimento a lui anche perché è un po' come loro leavo ha fatto sembrare tutto semplice no nel nella partita di sabato a differenza di loro ha segnato addirittura sorridendo mentre scivolava a terra sorride mentre colpisce quindi ha avuto anche il tempo di dire tanto lo faccio questo Carlo ma torniamo al al presente perché domani si gioca la prima partita in Champions League del Milan ti chiedono le ultime informazioni quali sono i ballottaggi ad oggi allora sono già qui a salisburgo come vedete il viaggio per chi partisse questa notte oppure domani ma domani molto presto siamo partiti alle nove e mezzo dall'autostrada più o meno lì a sesto san giovanni e siamo arrivati con relativa calma alle 16 quindi dovete calcolare un sei sei ore se sei sette ore di viaggio c'è un intoppo al Brennero perché c'è un restringimento della carreggiata ho guardato a destra se vedevo il mare della Liguria invece erano le montagne della le montagne del dell'Austria dell'Italia e però e quindi ci si mette questo tempo fa caldo domani si è annunciata pioggia ma oggi il tempo di Milano non c'è fa molto caldo la formazione dopo l'allenamento di stamattina ha risolto ogni dubbio è confermato De Chetelare ed è confermato Seleme Kers o meglio rispetto al derby gioca Seleme Kers ed è confermato De Chetelare il resto della formazione è quella del derby Va bene Carlo ultima cosa che ti chiedo anzi ti chiedono i tifosi un retroscena magari sui due giorni di di Jerry Cardinale a Milano cosa ti ha lasciato quali sono i tuoi le tue sensazioni per il futuro di questo nuovo personaggio figura importante ma vederlo a San Siro vederlo ovviamente con il fondo Elliot dovrebbe rimanere dovrebbe rimanere Gordon Singer e Giorgio Fornani le consiglie amministrazione della del 14 settembre questo senso di continuità nella grandezza l'entusiasmo fanciullesco di Jerry Cardinale che ha chiuso gli occhi e pensava di essere a Long Island che tu sai un famoso in una parca o a Disney World invece era a Disneyland invece era a San Siro poi questo continua a accennare al cuore ha capito già qual è uno dei segreti di questa squadra spirito cuore e senso di appartenenza Carlo grazie noi ci ritroviamo mercoledì perché domani appunto c'è Salisburgo Milan qui sul canale YouTube di Radio Rosso Nera magari ci vediamo nel collegamento pre partita e volentieri vi dirò qualcosa un abbraccio grazie a tutti